Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Ieri è arrivato in Sardegna, è stato presentato al Teatro d'Oglio e ha subito espresso quelle che saranno le sue linee guida per creare la squadra della prossima stagione che inizierà tra circa un mese. Però già nelle prossime settimane sia lui che Nuovo DS Carta che Giulini dovranno lavorare per creare la nuova rosa che avrà sicuramente alcuni punti fermi ma intanto ha bisogno di avere delle certezze. La certezza è il 433 di Di Francesco che ha spiegato non sarà una cosa integralista, quindi è pronto a cambiare in corsa nel caso in cui ci sia la necessità. Di Francesco che è stato ben accolto a Cagliari ieri sia all'aeroporto che appunto al Teatro d'Oglio e che ha spiegato come voglia raggiungere i risultati perché sia lui che i Cagliari hanno bisogno di rilanciarsi. Di Francesco perché viene da una stagione non positiva alla Sampdoria, ha spiegato di aver accettato la proposta di Ferrero giustamente in maniera frettolosa e di aver accettato anche una squadra diversa da quella che avrebbe voluto. Un errore che non vuole ripetere a Cagliari dove sarà sia allenatore che una sorta di manager che può scegliere i giocatori adatti e che può quindi costruire quella che sarà l'intelaiatura più consona al suo modo di giocare. Ovviamente vuole raggiungere i risultati, li vuole raggiungere anche i Cagliari come ha spiegato sia Giudini e poi il nuovo DS Carta perché dopo l'essere arrivati ancora una volta dalla parte destra della classifica c'è la necessità di rilanciarsi in un anno del centenario che non è stato fin qui molto positivo, anzi per niente. Per rilanciarsi quindi un nuovo allenatore molto ambizioso che potrebbe portarci nelle zone che contano e che dopo una decina d'anni, cioè dopo Allegri, ha uno status veramente veramente alto e che farà di tutto per confermare un po' quelli che sono i giocatori cardine. Innanzitutto Rajan Angolan, però anche Nandez, però anche Rogue, però tanti altri. Ha parlato anche di Joao Pedro, ha spiegato che Joao può essere utile nel suo modo di giocare però sappiamo anche che è un pezzo molto pregiato nel mercato che sta iniziando e quindi probabilmente lo vedremo partire nelle prossime settimane. Vedremo un po' quali saranno i movimenti, si parla già dei primi nomi, si parla già di Godin, di Florenzi e di tanti altri. Se questa è la linea che vuole tenere i Cagliari, anche se magari un po' dispendiosa rispetto al passato, è una linea che può veramente darci tante soddisfazioni. Per questo il Cagliari di Francesco può essere un'aurora, può essere la nascita di un nuovo ciclo che possa magari portare i Cagliari su vette molto alte, quelle raggiunte da Di Francesco con il Sassuolo, quelle raggiunte dall'Atalanta e anche recentemente dal Verona e dal Parma che si sono avvicinate nelle posizioni che contano e quindi darci delle soddisfazioni che ci mancano da almeno 25 anni a questa parte.